Fabio Aru, uno dei big al via di questo palio del Recciotto, con quali ambizioni? Sicuramente è una gara molto importante questa, che ho già fatto negli anni scorsi e ci tengo particolarmente. È una gara molto importante e speriamo di far bene. 3.000 metri di dislivello, quindi tanta salita, c'è il terreno per provare a fare qualcosa di importante oggi? Sì, sicuramente quest'oggi è molto impegnativo, anche di più rispetto agli anni scorsi e quindi speriamo di star bene e di poter fare un buon risultato.